E' stato sorpreso con il complice a spingere il motorino che aveva appena rubato dal resede di una casa, per questo è finito in manette. E' successo questa notte a chiamare attorno a Luna la polizia, dopo essere stato svegliato da rumori sospetti, è stato il proprietario dell'abitazione in zona Villa Severi. Sul posto la squadra mobile e la municipale. I agenti hanno così colto sul fatto i due malviventi che hanno subito abbandonato scooter e zaino, con vari attrezzi usati per il colpo e sono scappati a piedi cercando di far perdere le proprie tracce tra i vigneti della campagna circostante. Uno dei due è stato rintracciato pochi minuti dopo dentro ad un cespuglio, mentre l'altro è riuscito a fuggire. La polizia ha poi scoperto che i due avevano tentato poco prima di rubare anche un'auto in sosta nei paraggi, spaccando il finestrino anteriore. Per l'uomo fermato palestinese di 39 anni con precedenti è scattato l'arresto per furto in abitazione e tentato furto di auto.